Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La popolare autrice televisiva Sonia Bruganelli è una delle nuove candidate a diventare una ballerina nel programma Ballando con le stelle. Nonostante la trasmissione inizi il 28 settembre, i partecipanti hanno già iniziato le prove con i loro istruttori. È stato confermato che Sonia non ballerà insieme al suo compagno Angelo Madonia. Sonia Bruganelli ha condiviso un momento divertente con il suo cane Beppe attraverso una storia su Instagram. Ridendo e coccolando Beppe a letto ha annunciato che dovevano alzarsi presto perché doveva andare a ballare. La sua allegria e la sua energia contagiosa hanno reso il video molto divertente e coinvolgente per i suoi follower. Recentemente Sonia Bruganelli ha condiviso una serata romantica con Angelo Madonia, documentando la loro cena con una foto di un dolce postata sui social media. La loro relazione sembra essere solida e entrambi si divertono a condividere momenti dolci e scherzare sui social. Non vediamo l'ora di vedere Sonia Bruganelli esibirsi sul palco di Ballando con le stelle e scoprire chi sarà il suo partner di ballo. La sua simpatia e la sua passione per la danza promettono di regalare momenti emozionanti e divertenti durante la trasmissione. Restate sintonizzati per non perdervi nessun dettaglio su questa nuova avventura di Sonia.